Da sette secoli riposo, l'energia è immensa, non può restare ancora gelata. Quella che avete sentito è la voce del Vesuvio, ovvero di Mariano Rigillo, nella ricostruzione virtuale dell'eruzione del 79 d.C., nella quale da oggi possono immergersi i visitatori del MAV, il Museo archeologico virtuale di Ercolano, che ha riaperto al pubblico dopo il restyling. L'intera struttura si è rinnovata, con nuovi spazi di esposizione, installazioni multimediali e strumenti di proiezione e divulgazione scientifica all'avanguardia. L'inaugurazione è avvenuta ieri, mercoledì 16 novembre, con la prima proiezione dedicata all'eruzione del Vesuvio, che si iscrive in una struttura polifunzionale di 5.000 m2, nella quale sono installate soluzioni d'alta tecnologia, ricostruzioni scenografiche, ologrammi ed interfacce visuali che fanno rinascere alcune delle principali aree archeologiche della regione. I visitatori camminano per le strade di Pompei ed Ercolano, di giorno e di notte, oppure nello spettacolare teatro sommerso, nelle terme centrali, fino a ritrovarsi nella nube che diventa lava e dal via all'eruzione, quella descritta da Plinio il Giovane, e che viene riprodotta con un sofisticato impianto di multiproiezione stereoscopico su 26 metri di nastro in fibra argentata, in uno spazio a pianta circolare che permette di trovarsi al centro della scena. Io ho avuto una parte molto entusiasmante, nel senso di dare voce al nostro vulcano, a questo Vesuvio sterminator vesevo, che abbiamo anche qua alle nostre spalle, e di conseguenza sono molto contento di essere qua, in questo meraviglioso museo. È la storia che incontra il futuro, un viaggio nel nostro patrimonio culturale ed archeologico valorizzato dall'uso delle più moderne tecnologie, che si aggiungono alla Mediateca, all'Auditorium per proiezioni cinematografiche, alla Galleria Espositiva e agli spazi dedicati all'intrattenimento e all'approfondimento tematico. Insomma, un'ampia offerta di modalità di fruizione, capace di attrarre le nuove generazioni e di proporsi come punto di riferimento nella diffusione e nella promozione delle civiltà dei secoli passati.